Il 29 ottobre l'ex Palazzo dell'Enel, acquistato e ristrutturato dall'Ateneo barese, fu inaugurato con una cerimonia a cui partecipò il Presidente della Repubblica. Due settimane dopo, quel palazzo è ancora chiuso, i lavori di ristrutturazione sono finiti, ma deve essere fatto il cablaggio della sala multimediale e non c'è neanche una scrivania. L'ex Enel è destinato ad accogliere il Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia e Comunicazione attualmente divisi tra Ateneo e Sede in Affitto. Siamo circa una sessantina di docenti, più tutto il personale amministrativo si trasferirà lì, staremo finalmente tutti insieme, ci sarà un'aula convegni molto bella e delle aule per seminari specialistici. Le aule per gli studenti no, quelle rimarranno al terzo piano dell'Ateneo, anzi, lasciati i palazzi di Via De Rossi e Via Quintinosella, se ne dovranno trovare altre sei. Gli spazi sono davvero pochi, si cerca sempre di avere altri spazi e altre sale lettura. Il problema è che ci troviamo in una situazione tale che ogni anno l'Ateneo si trova a controbattere una situazione di deficit molto elevato. In cantiere c'è la realizzazione di nuove aule sempre in Ateneo, ma non prima del 2015. Il problema rimane quello dei fondi che scarseggiano e che invece servono per arredare il palazzo rimesso a nuovo. Un ricchio rettore che ha assunto l'incarico dopo l'inaugurazione, conta di far traslocare il Dipartimento a ridosso delle festività natalizie, recuperando una parte degli arredi esistenti e di dar vita finalmente a un palazzo inaugurato ma ancora vuoto.